Sherry Tattoo, MEF, Nuova Grafica e Tecnologia, DRINK, Iron Nitro, sponso tecnico dell'evento e ovviamente il Comune di Imola. Grazie signori, un bel applauso! Ma ora siamo pronti a chiamare i primi due attenti. E abbiamo all'angolo blu per la Fight Academy Xtreme e vi chiedo di attivare con un grande applauso Gianluca Scalcao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E all'angolo rosso per la Pro Fight in Bologna accogliamo e vi chiedo di attivare i primi due attenti. Grazie a tutti! 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 Entrambi lavorano con scambi di pugilato, quindi di colpi di mano e con la chiusura di gambe. Grazie a tutti! 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 Sta per iniziare la seconda ripresa, vediamo come i due atleti affronteranno la prossima. Si sono appena rifocillati all'angolo, hanno ascoltato i propri coach affinché... Stesso tenore di prima, vediamo l'atleta bolognese che pressa molto di più, porta all'angolo il veronese che è riuscito a riprendere il centro e sta tentando di colpire l'avversario con delle buonissime giro a chiave. Grazie a tutti! Guarda! 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 probabilmente il consiglio dell'angolo rosso all'atleta Samuele Ila è stato quello di colpire ripetutamente con i calci bassi circolari, con i low kick perché abbiamo potuto assistere a una serie di low kick non parati che sembra non arrecare nessun danno ma vi posso assicurare che fanno molto male e soprattutto vanno a bloccare la mobilità dell'avversario un buon tentativo di rovesciato anche se un po' lento dell'atleta di Verona con risposta di low kick sempre del bolognese questa volta il rovesciato è arrivato al volto dell'atleta bolognese più che altro non per la rapidità dell'esecuzione ma per il fatto che la guardia era molto bassa non è mio Solitamente non do giudizi personali sull'andamento del match ma in questo caso mi verrebbe da dire che l'attività più costante della teta bolognese lo porta leggermente in vantaggio rispetto al suo avversario adesso vedremo con la terza e ultima ripresa quale sarà l'esito dell'incontro la terza e ultima ripresa la terza e ultima ripresa la terza e ultima ripresa molto aggressivo abbiamo un attimo uno stop perché l'atleta bolognese ha ricevuto un colpo nelle parti basse l'attimazione dell'atleta bolognese che probabilmente è consapevole di essere leggermente indietro sui cartellini per le prime due riprese e sta conducendo quest'ultima in modo molto aggressivo secondo me questa terza ripresa è sua attendiamo il verdetto e il risultato è stato secondo me la media delle tre riprese le prime due leggermente in vantaggio l'atleta bolognese ma il veronese l'atleta bolognese ha dato dimostrazione di essere più determinato nell'ultima ha condotto la fine del match in modo più aggressivo e determinato e questo ha portato questo verdetto di parità tutto sommato giusto